Marino Bartoletti, qui a margine dell'evento Story Campus, si parlava di calcio e musica. Cosa hanno in comune? Forse l'anima? Hanno in comune che bisogna allenarsi molto per farlo bene, sia nello sport che nella musica. Hanno in comune che ci vuole una bella vocazione, hanno in comune che ci vuole un grande spirito di sacrificio, hanno in comune che ci vuole tanto talento, hanno in comune che fanno innamorare la gente che ti guarda. Esperto di calcio come pochi. Questi piccoli centri, per lo più montani, cosa debbono fare per far sì che i giovani possano affermarsi con il calcio? Continuare ad essere se stessi, non pensare che la fortuna si trova soltanto altrove, fare molto per i giovani e metterli in condizione di fare dello sport, non necessariamente costruendo dei palazzetti dello sport, che tanto è impossibile farlo.